Poker da sogno, una serata incredibile alla Maradona per il Napoli di Luciano Spalletti Esordio pazzesco, esordio clamoroso per il Napoli di Luciano Spalletti Davide, te la parola di una serata indimenticabile Una serata incredibile per il popolo celeste, partenopeo Un 4-1 che era molto difficile da pronosticare Ma anche solo una vittoria del Napoli era difficile da preventivare Eppure ce l'hanno fatta, hanno stracciato il Liverpool contro ogni aspettativa Insomma, complimenti al Napoli, complimenti a Spalletti Tanta aggressività fin dall'inizio Esatto, il palo dopo 45 secondi di Ozymane Il calcio di rigore realizzato da Piotr Zelinski al terzo Il raddoppio di Anguissa a fine primo tempo E poi la prima perla di Giovanni Simeone A causa dell'infortunio corso a Vittorio Ozymane Che ha sbagliato anche il possibile rigore del 2-0 Un primo tempo da sogno Una ripresa ben controllata che si apre con il poker Ancora in attapina di Piotr Zelinski E poi il gol della bandiera di Luis Diaz Però comunque una serata davvero da incorniciare E io aggiungerei ancora Fatal Napoli per il Liverpool di Jurgen Klopp La terza sconfitta consecutiva allo stadio Diego Armando Maradona Erano arrivate due vittorie in extremis Nelle due precedenti 3 al 3 ottobre del 2018 Il gol di Lorenzo Insigne In contropiede E poi Mertens-Liorente invece Il 17 settembre del 2019 Era il Napoli di Carlo Ancelotti Era un Liverpool decisamente però diverso Da quello che abbiamo ammirato questa sera Sì, un Liverpool sicuramente un po' più scadente Cioè rimane una grande squadra sicuramente Una delle favorite Il Napoli ha fatto una grandissima partita Non è più il Liverpool insomma delle passate stagioni Però comunque rimane sempre una squadra forte Sì, la squadra comunque vice campione d'Europa Che però ha iniziato sotto tono quella stagione Si ha in Premier tanti risultati negativi E già comunque un bottino dei punti da recuperare al City Quindi comunque la corsa al titolo Già molto in difficoltà in Premier League E poi questo esordio che non ti aspetti Al Maradona contro Negativo al massimo Molto molto negativo E già la settimana prossima contro l'Ajax In quel dia Un field sarà fondamentale Perché l'Ajax intanto alle ore 18.45 Ha vinto contro i Rangers Quindi adesso la seconda giornata che vedrà opposto Il Napoli in Scozia con i Rangers Il Liverpool in casa contro l'Ajax Saranno 90 minuti infernali per entrambe le formazioni Partiamo con l'analisi della partita Dopo 45 secondi Imbalazzante la presazione di Gio Gomez Peggiori in campo Da un suo errore nasce la palla Per Victor Osivan Che salta Alisson e becca il pallo esterno Già quello era forse un segnale Di cosa sarebbe successo da lì al 45esimo Napoli in vantaggio al terzo Con il penalty come detto in precedenza Trasformato da Pietro Zilinski Per un tocco di mano di Milner Su un tentativo dello stesso Zilinski Su una bella sovrapposizione di Cavasceglia Fenomenale questa sera Il Giorgiano che è incantato Nelle prime giornate di campionato Forse era la prova del 9 questa sera L'ha superata alla grande E poi comunque c'è da segnalare Anche l'intervento del VAR Per un contatto tra Van Dijk e Ozyman L'arbitro del sero grande va al VAR Va a rivedere l'episodio poi E c'è il calcio di rigore Tu mi hai detto secondo me Ozyman lo sbaglia E c'è stata la grande risposta È partito malissimo È partito male È partito molto male In corsa lenta Esatto E poi la grande risposta comunque Da segnalare di Alisson Becker Che ha salvato in quella circostanza Il Liverpool Liverpool che però non c'è in campo Assolutamente E come detto Imbalazzante la prestazione di Gio Gomez Lì dietro Si potrebbe saltare facilmente Anche comunque Van Dijk Non al meglio È un Liverpool che secondo me E questo hanno rispetto anche a causa degli infortuni Che hanno falcidiato la mediana Di Jurgen Klopp a centro campo È molto peggiorato rispetto alle ultime stagioni E la presenza di Elliot La presenza di un veterano come Milner Fabinho non al meglio Ecco secondo me E poi anche comunque Un punto interrogativo per ora Darwin Nunez Strapagato 75 milioni Un bomber pazzesco Che aveva esordito Con il gol In Supercopa d'Inghilterra Contro il City Però adesso Da una parte C'è un Erling Holland Che ha segnato 12 gol In queste prime partite Stagionali Ieri sera Fenomenale Il bomber Norvegese Dall'altra parte L'Uruguayano Che è ancora forse Un corpo estraneo Ed è Ormai Comunque ogni partita C'è Firmino Che è titolare La staffetta tra Firmino E Darwin Nunez Il Napoli per ora doppia Con una bellissima azione Partita da uno scambio Con Zilinski Che premia Anghissa 2-0 E poi La firma Che non ti aspetti L'infortunio di Ozyman L'entrata in campo Di Giovanni Simeone Che segna subito Esatto Segna subito su assist Di Calavscelia E scoppia a piangere Perché è un'emozione pazzesca Primo gol con il Napoli In Champions League Contro il Liverpool Esordio migliore Davvero Non ci poteva essere La ripresa Ormai La partita è segnata Il Liverpool Non c'è in campo Entra Matip Al posto Dell'inguardabile Joe Gomez Ma il risultato non cambia Arriva il poker Di Zilinski In tappino E poi Il bel gol Comunque da segnalare Di Luis Dias Che sfiuo dopo pochi minuti Il gol Del possibile 4-2 Che poteva Riaccenderla un po' Esatto Poteva riaprire Il discorso Che dire Un Napoli Incredibile Napoli Napoli stellare Facebook e Instagram Noi ci vediamo in un prossimo video Cheo 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 Grazie.